Qual è il ruolo della leadership nei fenomeni organizzativi complessi? Questa è un'altra bella domanda. La leadership, i sistemi complessi non possono essere determinati in maniera lineare, devono essere influenzati. Quindi la leadership che si interfaccia con problemi molto complessi e con sistemi complessi e rapidamente mutanti deve avere una capacità di visione strategica, quindi di pensiero strategico e di leadership strategica. Una volta che hai compreso devi saper utilizzare le leve per influenzare i sistemi complessi. Questo è il tema delle grandi organizzazioni, ma è anche il tema della politica. Per sviluppare una capacità di pensiero strategico di questo tipo bisogna investire nella qualità della leadership, anche attraverso delle iniziative, più che delle iniziative, proprio degli approcci formativi complessivi. Noi stiamo sforzandoci di farlo, proprio in questo momento è in atto un Executive Master in Strategic Leadership and Digital Transformation che stiamo facendo per la Nato. Abbiamo 36 ufficiali della Nato, di cui 8 generali e gli altri colonnelli e dirigenti civili con cui ci stiamo confrontando su questi temi. Grazie. Grazie.